La funzione bot.rend restituisce proprio il rendimento di un buon ordinario del tesoro. Andiamo subito a inserirla, bot.rend. Abbiamo sempre i nostri tre argomenti, il primo dei quali è la data di liquidazione, che rimane il 1 gennaio 2022 come i video precedenti, ma la data di scadenza cambia. Ho voluto mettere 1 gennaio 2023 per farti vedere un rendimento annuo e non semestrale. Ricorda che prezzo è il prezzo del bot con valore nominale di 100. Io ho voluto lasciare 100 per farti vedere una cosa, ma dopo lo andremo a modificare. Ora schiaccio fine e ovviamente la formula mi dà lo 0%. Qua ho già formattato in formato percentuale. Questo perché se devo pagare un buono, 100, che è lo stesso prezzo con il quale verrò risarcito, vuol dire che l'interesse è dello 0%. Di conseguenza, se io pago questo buono 50 e so che mi restituirà 100, allora come puoi immaginare il rendimento sarà all'incirca intorno al 100%, perché vado a duplicare il mio investimento. Ovviamente è un pochino meno, però all'incirca è il 100%. Viceversa, se metto 200, il risultato sarà che da 200. Io ricaverò 100 vorrà dire che ricavo circa il 50% in meno. Ed ecco perché il risultato è meno 49,32%. 100%. 100%.